Professoressa Di Pietro, avete presentato oggi qui all'alberghiero il progetto Legalità, uno progetto che verrà ulteriormente ampliato. Noi stiamo lavorando sulle legalità già da tanti anni. L'anno scorso abbiamo avuto moltissimi testimoni di legalità. Quest'anno abbiamo implementato questo progetto Educazione alle legalità attraverso una serie di incontri con testimoni della lotta contro tutte le mafie che inizieranno già a partire dalla prossima settimana. E poi nei mesi di settembre e di ottobre prossimi noi aderiamo e collaboriamo fortemente nell'organizzazione del Premio Nazionale Borsellino. Il progetto prevede una serie di incontri che sono momenti di confronto dei nostri studenti con magistrati e con quanti da tanto tempo lavorano per combattere tutte le forme di corruzione e di legalità diffusa nel nostro paese. Certo, ci sarà uno spettacolo teatrale che aprirà tutta questa serie di attività il 27 marzo, quindi lunedì prossimo, alle 10.30 presso la Sala Tinozzi della provincia di Pescara. Viene portato in scena uno spettacolo in cui si parla e si riflette sul lavoro. In questo caso la riflessione non è in negativo e non è in rivendicazione, ma gli autori hanno voluto lanciare e lasciare soprattutto ai giovani un messaggio di positività. È un bagaglio culturale anche per la conoscenza di chi ogni giorno combatte contro la legalità, a favore della legalità e contro la mafia e tutto quello che c'è contro. In più anche l'opportunità di incontrare testimoni che hanno proprio vissuto sulla loro pelle e tutto il percorso di testimonianza e quant'altro. Noi abbiamo preso esempio anche grazie a dei testimonial che sono venuti qui nella nostra scuola durante il corso dell'anno e quindi noi ci portiamo sempre ad accrescere anche il nostro concetto di legalità e di cultura.